5 milioni e 600 mila euro per 7 progetti transfrontalieri tra Italia e Francia. L'ufficializzazione è giunta al termine della due giorni a Torino dove si è svolto il comitato di sorveglianza del programma transfrontaliero Alcotra 2014-2020. Risorse che si aggiungono ai 3 milioni e 300 mila euro ottenuti nel precedente comitato di sorveglianza che si era riunito a giugno a Chamonix.